Gli aumenti dei prezzi dell'energia non riguardano soltanto una o più categorie, ma rappresentano anche un problema di sicurezza e di vivibilità dei nostri centri urbani. A dichiararlo è il direttore di Confesercente di Pesero Urbino, Alessandro Ligurgo, che punto è riflettore sulla scelta di molti operatori che di notte stanno spegnendo le luci delle loro vetrine a causa dei rincari esorbitanti delle bollette. In pratica, ha detto Ligurgo, di fronte ad aumenti che arrivano fino al 500%, è una scelta obbligata con la quale si cerca di star dentro ai costi e di non dover arrivare a chiudere l'attività. In tutto questo si presenta poi un problema reale o percepito di sicurezza. Sappiamo tutti che le vetrine fanno parte della pubblica illuminazione in tutte le città, quindi quando si spengono le vetrine e le luci magari anche della città non sono proprio eccezionali, ci sono dei coni d'ombra. In questi coni d'ombra normalmente i delinquenti cominciano a prosperare, quindi ci sono personaggi che cominciano a bivaccare in determinati posti, ma sicuramente so che se vado a spasso, a piedi di sera, magari in una via non proprio centralissima, un problema se vedo delle persone che mi vengono incontro io me lo faccio. La percezione di un potenziale comunque pericolo c'è, è vero, la provincia di Pesaro è normalmente molto tranquilla, grandi problemi di criminalità non ce l'abbiamo, però abbiamo questo sentore che se le vie cominciano a diventare buie, cosa succede? Non lo sappiamo. A livello nazionale Confesercente si sta già muovendo per sensibilizzare le istituzioni, assicurato il direttore. L'associazione di categoria ha rivolto un appello anche alla regione Marche affinché metta mano, in fretta, a strumenti di sostegno per gli operatori, accanto a quelli già richiesti per l'emergenza alluvione. Per molti si tratta di una corsa contro il tempo, ha concluso Ligurgo. Il problema è comune, non possiamo ragionare a compartimenti stagni, imprese e famiglie vanno tutelate al più presto. Se l'Europa all'inizio e poi lo Stato italiano è a cascata, poi la regione non mette mano a questo reale problema che sta veramente diventando un macigno per tutte le imprese che rappresenta Confesercenti, che sono le micro e le piccole imprese, abbiamo veramente un problema reale, un problema reale che comincerà ad essere un nuovo problema poi di occupazione, sarà un problema di… si innesca un circolo vizioso purtroppo che poi sarà dura da contrastare.